Il primo personaggio che solo due giorni fa ci ha lasciato, un padre fondatore del movimento gestistico terremese, il professor Luigi Arimese, che proprio l'altro giorno ci ha lasciato, ci ha avuto un viaggio di rinnovazione perché lui era un grande personaggio, nativo di Lassano ma anche a rinnovese a tutti gli effetti. L'unico di queste ragazze ha sempre voluto e oggi sarebbe stata la sua perduta, basto terra. Onoriamo il mio migliore mondo. Ciao professore. Grazie. 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 Grazie.